I platinano anche sul tuo gioco, i platineroi! Devo platinare, poi vedi con il sangue, agli occhi io platinerò! Ma sai, sarebbe controcorrente, gli altri lo platinano su una console sola, te lo platinano sul tuo gioco! Mamma mia! Ma è Game of Thrones, voi te lo platino io! 8 ore di gioco, non è che ne costa chissà cosa! Mamma mia! Ma quanto non gioco, non do la perforza! A questo? Mi metto qua, ce l'avevo due mesi, anche di più! Ma si? Ah! Non l'ho mai giocato da quando è uscito questo aggiornamento qua! No, no, fa a coronare, che cosa vuole! Vedi, Dragon Age è fattibile! Beh, Watch Dogs e faccio a platinare! Ehm, fa a vedere! Battlefield 1 penso che sia una roba bruttissima! No, è bello invece! Devo dirti la verità, mi piace! Da platinare! Ah no, da platinare! Da platinare sì! The Witcher deve essere fattibile! Battlefield 4! The Witcher è bellissimo! Secondo me è uno dei giochi più belli! Ah, se lo rimette sulla PS4! Non lo metto in sconto! Ah! Io a 20 euro non lo prendo, se lo mettono a 15 lo prendo! Ma l'avevamo messo a 1699, la Game of the Eredition! Sì, io la prendevo anche quella a 13, ma era quel problema che non me ne sono accorto! Ma ormai non accendo più la play! Adesso i due giorni che mi ha partito un platinare! Così, sai quando ti capitano quelle cose che... Parto un platino, uno o due giochi, lo sai come sono fatte? E poi basta! Cos'è questo? Ah, un pochettino! Via, via, via! Allora! Chi prendi te di solito? Eh, quelli che avrai! La super sensibilità? No, è basso da me! Orizzontale? Ah! Operatore! Ah, ma forse tu l'hai preso pure l'Operatore, eh? E basta! Questa parte la tagli finchè non so, quindi posso calmiarti dietro! Mi manca alcuni di quelli... Chi è, chi è, chi è? Valkyria! Cioè, non è Mirini, non è niente! Eh, no! Non ci ho giocato per l'ora! Cioè, ci avevo giocato! Ci avevo! Devo far libero per forza! Da Scarsioni giocare in libera! Vabbè, tanto per divertimento, tanto! Uno, due, tre... Ah, pure il tempo! Vabbè! Però io sono curioso di provare Ghost Recon multiplayer! Sì! Quello su un veramente... Te lo ricordi che partite si faceva? Sì! Erano bellissime, eh? Quelle partite! Sulla PS3, vero? Qua starei con... Future Soldier! 2000... Mamma che partite! 2010! Eh! Mamma mia! Con te lo hai passato! Te lo ricordi che con... Erano boccia! Ah! Miseria! E poi come un Daniele Sacco! Birinillo! Te lo ricordi che fare la sua. Ah! Ah! comand ecco qua si può mettere il disettaggio di di base e voi si disattivate quelli della squadra di là sai no 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 sono quelli dei nostri che parlano ma noi ci sento siamo sicuri con gli smutti ma sono mappe nuove queste è l'unica nuova ma l'unica c'è le altre nuove da giocare anche qua non l'ho neanche mai vista collegiamo con i cani non è roba da stare i poveroni no no in teoria no a meno che non sia partita la play di sotto perché? ma nemmeno di sotto strano a meno che la monica non abbia non stia mandando i tablet come? a meno che la monica non stia mandando i tablet in scarico in aggiornamento ah non lo posso vedere speriamo di no ora sono io che sto aggiornando il telefono no Bartlett oh my god oh my god no Bartlett no 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 dovrebbero dovrebbero mio padre me ne dava nessuno contento a questo punto ahahahahahahahah mamma mia ti man to odio i bambini no ah non dire così tanto ho posto lottati ahahahahah rimane un video di 20 minuti e ne rimane 3 l'intro, i tempi di attesa del caricamento muro in sicurezza 10 secondi ancora 5 secondi vediamo il grande costo di azione sta a vedere, fuori, connessione troppo lenta si effettivamente andrà guardami ma strano c'è qualcosa che va andrà sono morti c'è qualcosa che sta andando guardami io già sto invertiti no? quindi per me è un amassato aspetta vado a vedere un attimo cos'è che fa questa cosa la vecchiaia Andrea non sono più quello di una volta via 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 affronterai 10 situazioni fondamentali di antiterrorismo prima di andare in missione fai rapporto alla base SAS di Airford dovrai infiltrarti in una casa ad addestramento ed eliminare i nemici a distanza ravvicinata gli operatori devono fare attenzione a ciò che li circonda identificando minacce e risorse conquista l'area con un passaggio lento e metodico eliminate tutti i nemici non c'era qualcosa che andando chiudo anche la stampante a sto punto vediamo dai vediamo dai vediamo dai vediamo se riusciamo a fare una partita qua 45 per adesso vabbè dovresti iniziare a spommare no 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 non mi chiedono il gioco da vedere ora cominciamo adesso non sono più abituato con i tasti cambiati finiamo non riuscivo a giocare senza cambiare i tasti altri dovete individuare l'ottaggio ah perchè volendo se trovi il sistema te li faccio i video su Rem che li posso ah non è male se riesci a farli con la connessione io non capisco cosa i video riesci a farli io riesco a gettare ah non è passarteli non so come fare vediamo la nuova ok provate recuperate l'ottaggio io non sto lì a vedere loro che gioca no fatti però se no quattro non giocavi te no punto ti faccio vedere gli altri che giocano no no per la connessione no non lo vedevi lo stesso anche a casa mia vedi loro che giocano poi crashi dopo appena iniziare giocando ma strano ho spento i tablet ho spento l'altra play di sotto ho spento l'altro tablet mio strano spendiamo anche questo che ti devo dire dovrei iniziare anche io a rifare i video ma che mi scoccio lasciare la play mi scoccio il nemico ha individuato il contenutore di biorischio non vogliono forci giocare ufficiale adesso prima partita che troveremo dai mi crash ho tolto anche il telefono una bella nematica che l'ho messo torno a giocare adesso ahahahahah sto stufata la mamma che gioco ah Destiny c'è vero si ma anche quello che ho mostrato non trovo gente con cui con cui giocare non trovo gente con cui giocare non trovo gente con cui giocare su Destiny qui quattro con cui giocare ma mi stava mi clando si ma mi ha stufato mi ha staccato no mi ha stufato ah si perchè loro poi vanno su Reino vanno su quell'altro eh ma stavate da aspettare loro ahahahahah la prima cosa da fare la base disattivare le voci ahahahahah questi qua sono tutti italiani si tu giochi bene come madre vai contro i diamanti italiani non le trovi anche contro le marghe e lindola che taglia Capcam acqua dura un po' puoi portare al video ahahahahah allora partiamo adesso con il video vediamo cosa succede state a vedere che lag disumano ci ritroviamo tra gli avversari ahahahah eh vedo che ne dici eh hai visto già la acqua eh a rimbalizzare ahahah ahahah ahahahahah ahahah questo che fa? ancora 10 minuti in attimo ah il drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio 5 secondi il nemico ha individuato il contenitore di biorischio strano guarda ahahah individuato a vedere la macchia ahahah ahahah ricarico ahahah 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 sei un grande sei un mito sei un mito che mito se rimani in questa zona il nemico ti scoprirà la tua posizione è stata compromessa eccolo arriva eccolo lì eh beh dai la classe si vede oh magari ahahah nooo peccato peccato eh vabbè ti ho ucciso spetznaz spetznaz gli spetzli gli spetzli ahahah 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 però non sai che cosa faremo ah no ma c'è sta bene eh sarebbe bello però non puoi farli insieme i tossi c'erano 10 mila poi venite a farlo vuole ahahah ultimo nemico rimasto ma va lì ma va lì ma va lì non ha credibile ma hai fatto tutto te ne hai fatto fuori tre solo te questi ma guarda questo con c4 ma dai ma non si può ma dai ma non si può è incredibile come si potrebbe fare ciò? eh è una figata il tutto sarebbe poi sarebbe bello montarli con la cam c'è anche se eh ma la cam non c'è adesso l'altro ora è il nuovo l'unica a farla un po' sproduzione dici? mh guarda li rispottano con la mia cam guarda ahahahah dove ti chiamano? dov'è? è la è vero ah tu continui a far così e lo rilevi vediamo ahhh ma non mi sembra molto astuto ragazzo no infatti nooo nooo incredibile 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 che disprezzo guarda si guarda lasciamo stare ahhh prima cosa che faremmo se la comprare i miei lini eh fatti come con cosa li compri? con con la fama con la fama? ogni partita li do dei punti fama ah ok ok se non veniva la Francia dai no piuttosto che della Francia guarda io c'ho pure la baguette mamma mia attenzione a Fabius il migliore che non sta facendo niente si in effetti è il migliore cioè tre ne hai fatti fuori te e nessuno loro c'ho un po' di carenza qua il team ahahahahahahaha cosa sto facendo questo? guardalo si l'ho visto ancora 10 minuti e quanta connessione hai? eh? quanta connessione hai? sei e mezzo sei e mezzo eh una e mezzo due massimo due massimo raggiungete la posizione del contenitore di biorizio no è la la commissione l'upload tirato giù uno senza merino non è dura fai vedere la tua classe l'hai già fatta vedere prima io ho una vita non gioco più a sto gioco veramente una vita anche io effettivamente ricarico c'è uno là dentro si è là guarda cavoli è al volo è quello andato spara c'è una granata eh senza merino è dura eh beh senza merino è dura ma la classe è classe rimane un minuto eh vada ancora spezznaz è l'unico a quanto pare che qua che sa ce n'è uno guarda ce n'è uno ed è sopra e lui giustamente non è che entra nell'obiettivo no 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 non ho parole guarda mamma ce ne va davanti la trappola mamma che gente cioè ragazzi non ci credo io a questo sembra un po' eh sì eh ci senti a capire ma che fa ma no l'ha sputtato vediamo ma è chi guardi là ma meno male dai meno male ha una grana di chi è purito la dame guarda guarda cosa guarda perché giustamente il tipo è fuori quanto è passenza a giocare con sta gente però è anche divertente dai sotto certe specie c'è il segnerino o sì ma ne vivrebbe uno è vero mamma mia proviamo così ma io li avevo comprati anni fa quando ci giocavo i mirini no? ti sembra a te sì è anche uno è anche uno? non mi metto bruttissimo no non si può giocare così con il mio account te lo giuro non mi metto bruttissimo E vai... Cheio. Vai, vai me cheio.